Ciao a tutti, in amore più si invecchia più si deve diventare selettivi. Prima di affrontare questo tema iscriviti al canale, seguimi sulla pagina di Instagram, Massimo Taramasco, nonché iscriviti al nuovo canale, Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Allora, uno degli errori che molte persone fanno col passare degli anni, invecchiando, è diventare meno selettivi nelle relazioni sentimentali effettive, perché pensano, beh, adesso ormai a una certa età se non mi accontento, non riesco, non troverò nessuno, non troverò nessuna. Ecco, questo è un grave errore che si può fare, proprio un grave errore a livello di pensiero, perché, diciamo, per la legge dell'attrazione vai ad attirare proprio le persone peggiori. Intanto, beh, ti ricordo che farò un seminario completo sulla legge dell'attrazione venerdì 6 dicembre a Torino alle 20.45 e il riferimento è il 333 15 11 703. Comunque ti lascio tutte le info nel box. E la legge dell'attrazione è una legge di risonanza. Noi entriamo in risonanza con quelli che sono le nostre convinzioni profonde. Quindi la convinzione che più passa il tempo, più invecchi, meno possibilità hai di trovare la persona giusta e quindi più devi accontentarti, farà sì che troverai le persone peggiori di questo mondo. Cioè la feccia la tirerai tutta. La tirerai tutte le persone impegnate, sposate, che hanno relazioni oppure fediferiche e concubine, persone che ti daranno polpette avvelenate, perché te le stai cercando tu. È come se all'universo andassi a fare proprio questa richiesta di avere, diciamo, le peggiori persone di questo mondo. Quindi più passa il tempo invece più devi diventare selettiva in amore, più devi mettere delle restrizioni, devi inserire di io voglio solo una persona speciale, ma devi sentirlo dentro però, perché il pensiero positivo non funziona. Il pensiero positivo in amore non funziona, anzi è molto controproducente. Nel senso che se tu hai delle aspettative alte, quindi il pensiero positivo alto, probabilmente, cioè hai aspettative alte, speri che capiti quella cosa, vuol dire che anche la paura sarà alta. Noi dobbiamo avere degli obiettivi alti, quindi gli obiettivi devono essere sempre altissimi, anzi più invecchi, più devono essere alti. Le aspettative basse è mettere però uno sforzo continuo andando in quella direzione, quindi scarta rapidamente tutte le persone che non ti piacciono. Cioè, più vecchi, quando incontri persone che per qualche motivo non ti vanno bene, non hanno le caratteristiche che tu vorresti, scartali subito, perché devi dare un segnale forte alla tua parte emotiva che, diciamo, le cose sono cambiate, sono diverse, altrimenti troverai subito tutta una serie di persone negative. Questo è molto importante per la legge dell'attrazione. Per sviluppare al massimo e al meglio la legge dell'attrazione, puoi partecipare al mio seminario venerdì 6 dicembre a Torino, ore 20.45. Il riferimento è il 333 15 11 703, venerdì 6 dicembre 2019 a Torino. Inoltre, chi non potesse partecipare ai corsi e volesse comunque avere accesso alla formazione dei corsi che faccio io, può andare sul canale Massimo Terramasco, non su questo canale, ma sul canale Massimo Terramasco, il mio canale principale, con computer nella home page, a fianco al tastino iscriviti, c'è il tastino abbonati, ti puoi abbonare, ci sono due livelli di abbonamento, a livello top ci sarà il top della formazione, e a livello base formazione basic, diciamo. E niente, per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ciao a tutti!